Questo video rappresenta un prosiego della vicenda relativa alla frode giornalistica di UCCR raccontata in un mio precedente video che è necessario visionare per comprendere quanto segue. In seguito al mio disvelamento della frode il sito pubblica un aggiornamento sotto all'articolo. L'autrice dello studio aveva affermato che probabilmente il maggiore tasso di suicidi è dovuto allo stress che le persone LGBT devono ancora affrontare, anche in un paese tollerante come la Svezia. UCCR replica nel suo aggiornamento che questa conclusione, introdotta non a caso dal probabilmente, è un'opinione personale dell'autrice, attivista LGBT, che non può essere affatto ricavata dai risultati da lei ottenuti. Ecco la mia controreplica, pubblicata nella sezione dei commenti del precedente video. Qui di seguito riporto testualmente fra virgolette quanto affermato nell'articolo originale di UCCR. Quasi sempre le associazioni LGBT giustificano questi dati accusando la società di omofobia, le generalizzate discriminazioni nei loro confronti porterebbero le persone omosessuali a soffrire di questi disturbi. Una spiegazione che tuttavia è stata ancora una volta smentita da una ricerca. Questo passaggio si può parafrasare dicendo, la ricerca esclude che i disturbi di cui soffrono gli omosessuali sono causati dall'omofobia. Questo è semplicemente falso. La ricerca non esclude questa possibilità. Affinché la possibilità non venga esclusa non è affatto necessario che venga fornita una spiegazione alternativa. Sono state attribuite allo studio tesi ad esso estranee e il fatto che l'autrice esprima in forma congetturale le sue considerazioni eziologiche circa i tassi di suicidio fra omosessuali, corroborandole di nuovi dati, è un dettaglio aggiuntivo che però non rientra nel mio impianto accusatorio. Inoltre all'autrice dello studio viene accordata una credibilità a corrente alternata, da una parte i suoi dati sono ritenuti affidabili e usati dal sito, dall'altra UCCR alla protervia di ritenere la sua interpretazione molto più affidabile di quella dell'autrice. Vorrei ricordare che l'autrice ha attualmente una posizione di postdoc a Los Angeles, è dottore di ricerca con tesi in epidemiologia ed ha conseguito dei master in sociologia, scienze politiche, statistica, psicologia sociale e criminologia a differenza dei redattori di UCCR. Ho risposto a Luca Pavani del sito UCCR che per questa volta indulgerò a credere che si tratti di una disattenzione del sito. Se però in futuro capitasse qualcosa di analogo con altri articoli valuterò se chiedere agli autori degli studi di querelare il sito UCCR facendomi carico delle spese legali. Il sito ritiene ridicolo il mio avvertimento, faccia come crede. Luca Pavani ha anche screditato l'autrice affermando che solo una persona ideologizzata, attivista LGBT come l'autrice poteva sostenere una tesi che UCCR ritiene così assurda. Vorrei rilevare che a seguito del mio avvertimento il sito UCCR ha modificato una frase cruciale del suo articolo, in cui è stata aggiunta l'espressione a nostro avviso. In data 8 giugno 2016 si legge nell'articolo, quasi sempre le associazioni LGBT giustificano questi dati accusando la società di omofobia, le generalizzate discriminazioni nei loro confronti porterebbero le persone omosessuali a soffrire di questi disturbi. Una spiegazione che tuttavia a nostro avviso è stata ancora una volta smentita da una ricerca. Il sito sta forse cercando di mettersi a riparo da potenziali querele? L'articolo di UCCR ha avuto numerosissime condivisioni ed ha ingannato molti lettori. Troppo comodo cambiare qualche parola solo per cercare furtivamente di mettersi in salvo, dopo che molti lettori sono stati ingannati.